Sono stati i figli che nel frattempo avevano attivato i soccorsi a fare la tragica scoperta. Per Doriano Poce, a 67 anni, non c'era più nulla da fare. Fatale per lui una caduta mentre era alla ricerca di funghi nella zona dietro il cimitero di Bieno, frazione dove risiedeva, in comune di San Bernardino Verbano. L'uomo, vigilo urbano del paese in pensione, era molto conosciuto e conosceva bene la zona. Stamattina era uscito a caccia di funghi ma non era rientrato per pranzo. Fatto che ha subito allarmato la moglie, il signor Poce era una persona precisa, metodica. La donna ha contattato i figli che hanno iniziato a cercarlo, in breve tempo hanno rinvenuto l'auto parcheggiata nei pressi del cimitero di Bieno ed hanno iniziato una perlustrazione dei boschi circostanti. I figli hanno attivato l'applicazione Trova il mio iPhone sul cellulare del padre, riuscendo a geolocalizzarlo. Mentre si recavano sul posto indicato su Google Map, hanno allertato i soccorsi. Si sono intervenuti il soccorso alpino decima delegazione Valdossola, i carabinieri, i vigili del fuoco. Sono stati però proprio i figli a giungere per primi sul luogo della tragedia al soccorso alpino il compito di recuperare la salma. Facile pensare a una scivolata. L'uomo indossava stivali di gomma, quelli comunemente usati per il giardinaggio. A bordo del sentiero sono stati ritrovati i funghi che aveva raccolto e l'ombrello che usava come bastone. Il pensionato sarebbe morto sul colpo.